Si torna a parlare di Toscana Aeroporti in consiglio regionale, nel momento in cui la società di gestione degli scali di Pisa e Firenze continua a crescere, recuperando dopo i due anni di pandemia, ma nello stesso momento in cui i sindacati indicano nuove manifestazioni di protesta. Da un lato la vicenda degli organici, delle stabilizzazioni e dei carichi di lavoro, dall'altro la polemica per la scelta della società di corrispondere 7 milioni di euro di dividendi ai soci, proprio all'indomani del prestito di 10 milioni di euro ottenuto dalla Regione Toscana. L'Aula, dopo una mediazione, approva con voto unanime un testo condiviso che parte dalla mozione presentata dai consiglieri di Fratelli d'Italia. Sì, Toscana Aeroporti ha ricevuto un contributo di 10 milioni di euro da parte della Regione Toscana per far fronte alla crisi pandemica, ma a fronte di quel contributo si era impegnata a garantire i livelli occupazionali. Garantire i livelli occupazionali vuol dire che se ci sono mille dipendenti, se ne mantengono mille, al netto di dimissioni, pensionamenti e via dicendo. In realtà questo non è successo, i dipendenti sono calati di circa 150 unità, per di più non c'è stata l'integrazione degli stagionali, il cosiddetto supporto summer perché comunque durante l'estate ci sono più passeggeri e c'è necessità di maggiori addetti e per di più l'impegno riguardava sia il diretto che l'indiretto, invece Toscana Aeroporti per mesi ha tentato di vendere Toscana Aeroporti Handling che è un ramo della stessa società, quindi ha fatto tutto il controllo di quello che sarà impegnata a fare. Se ciò fosse vero e risultasse vero deve restituire 10 milioni di toscani alla Regione Toscana che noi chiediamo di dare alle piccole e alle medie imprese. Oggi c'è stato un passaggio importante in Consiglio regionale anche sui dividendi perché a fronte di quei 10 milioni il CDA di Toscana Aeroporti ha deciso di dividere 7 milioni di utili, siamo felici che la nostra mozione di cui sono primo firmatario che esprime contrarietà all'atteggiamento di Toscana Aeroporti che si è divisa gli utili, ovvero soldi che le avevamo dati, come Regione Toscana sia stata votata all'unanimità da tutto il Consiglio regionale. Una mozione che esprime contrarietà proprio rispetto alla decisione di dividere gli utili dopo aver goduto di importanti risorse pubbliche per far fronte all'emergenza pandemica. L'atto votato dall'Aula impegna la Giunta anche a continuare a controllare il rispetto e il mantenimento degli impegni a carico della società Toscana Aeroporti. È evidente che la garanzia principale deve essere quella occupazionale, deve essere quella del fatto che le attività aeroportuali devono funzionare per una regione come la Toscana. La fruibilità degli aeroporti, la funzionalità di una società così importante che consente in maniera integrata di lavorare sia a Firenze che a Pisa è fondamentale nella ripartenza del turismo, lo stiamo vedendo in queste settimane, in un contesto europeo che comunque vede i voli aerei in grave difficoltà, basta guardare il numero degli annullamenti che ci sono stati nelle ultime settimane e quindi credo che quella scelta fatta a suo tempo sia stata importante, lungimirante perché ha consentito di tenere in piedi un sistema che ha bisogno di fare investimenti, che ha bisogno di sviluppare, che ha bisogno di fare l'adeguamento delle infrastrutture. Penso alla nuova pista di Peretola e penso alla possibilità e al diritto che ha la città e la Toscana di avere un aeroporto all'altezza del blasone, della storia e del valore che ha la nostra regione e che ha il capoluogo della regione. Il Consiglio ha anche approvato con voto unanime la proposta di risoluzione avanzata dalla Lega per verificare il mantenimento dei livelli occupazionali. Sì, contesta i dividendi, soprattutto contesta che di questi 10 milioni oggi abbiamo una rendicontazione soltanto di poco più di 3 milioni, non abbiamo chiara la situazione occupazionale, abbiamo denunciato che ogni anno Toscana Aeroporti assume i dipendenti stagionali, quest'anno i dipendenti stagionali non sono arrivati in nessuno dei due scali aeroportuali, ho fatto un'indagine di personale, si parla di diverse unità in meno anche rispetto al 2019, mentre invece il numero dei passeggeri, i dati dei passeggeri ci fanno pensare che la stagione estiva si possa chiudere con un più rispetto addirittura al 2019. Quindi anche noi come Lega abbiamo presentato un atto, abbiamo chiesto alla Giunta regionale che faccia un'indagine appunto su tutto il settore, su tutte le dipendenze occupazionali e che venga a settembre per farci capire, relazionare se veramente sono stati rispettati o no i livelli occupazionali perché da quello che ci dicono i sindacati e tutte le persone che abbiamo incontrato purtroppo questo patto non è stato rispettato. Siamo finiti su un giornale inglese, un tabloid inglese ma non perché si parla di nuovi numeri e si dice che finalmente la Toscana riparte ma perché abbiamo tenuto una serie di cittadini e una serie di visitatori della nostra Toscana rinchiusi per ore vicino ad un gate perché praticamente non si sapeva se un volo partiva oppure no. Questa non è l'immagine della Toscana che noi vogliamo, questa non è l'immagine che i Toscani meritano e soprattutto dopo un contributo di 10 milioni credo che gli investimenti di Toscana Aeroporti debbano essere altri rispetto a no personale e a chiusura di alcuni servizi. Voto unanime anche per l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che chiede tutelle per il lavoro non solo nel numero delle persone ma anche nella qualità e nella stabilizzazione dei precari. Respinta invece la proposta di risoluzione presentata dal gruppo misto che chiedeva di aumentare la quota di partecipazione della Regione Toscana nell'azionariato di Toscana Aeroporti. Noi abbiamo analizzato da un altro punto di vista. Nel momento in cui nel 2014 si è scelto di vendere le quote di quello che è considerato comunque un settore strategico tuttora per Regione Toscana ovvero il sistema aeroportuale oggi come dire da socio di minoranza è chiaro che il peso del privato e quindi in questo caso delle corporazioni america naturalmente si fa sentire. Quindi noi abbiamo sì sovvenzionato ma all'interno del CDA oggi siamo fortemente ridimensionati. Questo è un aspetto che secondo noi era meritevole di attenzione anche perché è chiaro che in questo assetto societario ben poco può incidere il socio pubblico quindi come Consiglio regionale abbiamo dato delle chiare indicazioni in particolare per quanto riguarda la tutela dei lavoratori. È evidente che su questo si sta cercando di effettuare il massimo monitoraggio ed è stato fatto il massimo sforzo. Noi diciamo però che la scelta fatta a monte nel 2014 di ridimensionare la partecipazione pubblica oggi ci mette in la condizione di essere in mano fortemente al soggetto privato il quale non dimentichiamoci ha degli impegni precisi sul fronte investimenti. Gli immobili confiscati alle mafie siano assegnati anche alle vittime di reati associativi per uso abitativo. È questo quello che prevede la proposta di legge al Parlamento che il Consiglio regionale della Toscana ha approvato nel corso dell'ultima seduta. A spiegare la finalità e le modalità di questa proposta il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. Il Consiglio regionale ha presentato, ha deciso di approvare quindi di presentare al Parlamento italiano una proposta di legge che riguarda la destinazione degli immobili che sono confiscati alle mafie. In particolar modo l'obiettivo di questa proposta di legge è quello di estendere i possibili assegnatari in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Si stabilisce infatti che questi immobili oggi possano essere anche concessi a titolo gratuito per un massimo di cinque anni a coloro che sono risultati vittime dei reati di mafia di cui è l'articolo 416 bis del Codice Penale ma anche tutti i reati che sono stati commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso. Il presupposto è che chi è stato vittima abbia determinati requisiti reddituali e che soprattutto si sia costituito parte civile nel processo penale ottenendo una provisionale o una condanna che non sia stata eseguita dal punto di vista risarcitorio oppure a prescindere dalla costituzione di parte civile nel processo penale abbia deciso di avviare un'autonoma azione risarcitoria in sede civile e non abbia ancora ottenuto ristoro. Con questa legge quindi potranno questi immobili essere assegnati in uso anche a queste categorie di persone che sono persone che anche in virtù delle diverse forme di collaborazione che hanno reso con la giustizia nella repressione dei reati di mafia possono avere necessità impellenti di poter fruire di beni immobili alternativi alla loro precedente abitazione. L'atto approvato in maniera unanime deriva da una proposta avanzata dal gruppo di Fratelli d'Italia. E credo sia veramente un bel momento per la Toscana perché oggi il Consiglio regionale della Toscana invia al Parlamento italiano una proposta di legge per inserire tra le destinazioni possibili per gli immobili confiscati dalla criminalità organizzata anche quello di trasformare questi immobili in alloggi per chi della criminalità organizzata è stata vittima. Perché sembra quasi assurdo, sembra un paradosso ma oggi tra le varie destinazioni che potremmo dare agli immobili confiscati dalla mafia non c'era quello di utilizzare questi immobili come alloggi per chi invece è stato vittima della criminalità organizzata. Sappiamo bene purtroppo che chi ha il coraggio di denunciare la criminalità organizzata di dissociarsi dalla criminalità organizzata di non sottostare al racket della criminalità organizzata sappiamo che una delle punizioni a cui vanno incontro queste persone è quella di vedersi minacciata la propria abitazione. Speriamo che il Parlamento recepisca questa proposta di legge anzi approfittiamo anche delle vostre telecamere per ribadire un altro concetto un invito a tutti i gruppi politici a sollecitare i nostri parlamentari affinché prima della fine della legislatura calendarizzino questa proposta di legge e la trasformino finalmente in legge nazionale. Come detto, ampia convergenza prima in commissione affari istituzionali e poi in aula. Noi siamo d'accordo in particolare perché chi è vittima di reati di mafia possa usufruire dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Lo diciamo forte e chiaro anche le vittime dei reati devono essere in qualche modo indennizzate e compensate se hanno dei problemi di carattere finanziario economico. Quello che voglio dire è soprattutto però che il Parlamento poi dovrebbe accogliere queste proposte di legge che hanno una loro ragionevolezza e un loro significato. Abbiamo visto invece come purtroppo assai spesso queste proposte di legge al Parlamento cadano nel vuoto e questo non è un bel segnale di rapporti positivi tra il Parlamento, tra Roma e le regioni. Rigenerazione urbana attraverso il protagonismo dei giovani. 190 richieste arrivate, oltre 2 milioni di euro già stanziati. Così il Consiglio regionale ha deciso di rifinanziare con altri 500 mila euro le iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. La proposta dell'Ufficio di Presidenza è stata approvata nel corso dell'ultima seduta. Noi abbiamo lavorato all'assestamento di bilancio con un obiettivo, cercare di dare le risorse e metterle sempre a disposizione dei più giovani, di chi ha sofferto di più in questo periodo. Abbiamo visto che la legge 3 dello scorso anno è stata molto apprezzata dai comuni, tante richieste, tante partecipazioni e abbiamo deciso di finanziarla ancora di più per 500 mila euro, la street art, i parchi giochi inclusivo, i centri di aggregazione giovanile con l'obiettivo anche in questo caso di offrire ai cittadini, ai ragazzi più giovani la possibilità di percorrere e intraprendere queste iniziative che secondo me stanno avendo un grande successo. Il frutto di un lavoro di squadra fatto da tutto l'Ufficio di Presidenza, maggioranza e minoranza che sono riusciti a proporre delle offerte ai comuni così significativi con questo bando che sono stati numerosi i comuni toscani che hanno aderito al bando e sono circa 190 ed è per questo che oggi siamo andati a rifinanziare con ulteriori 500 mila euro proprio Rigenerazione Toscana. Sono soddisfatto perché con il lavoro di squadra, il lavoro serio, possiamo fare il bene dei toscani attraverso i comuni e anche dei nostri giovani. La Regione conferma una scelta che è lungimirante, un'intuizione che io in primis ho portato in Ufficio di Presidenza che il Presidente Mazzeo ha condiviso così come i colleghi che ha visto una risposta straordinaria dei comuni toscani. Sono praticamente quasi 200 comuni che hanno risposto con iniziative che vedono i ragazzi, i giovani coprotagonisti delle loro stesse iniziative. Era un'occasione di ripartenza, una forma di aggregazione, di inclusività sociale e i ragazzi si sono dimostrati pronti a rispondere a questo che è stato forse il bando maggiormente partecipato della storia della Regione Toscana e quindi per me era doveroso e scontato mettere altre risorse in questo bando per consentire di dare una risposta positiva a tutte quelle richieste che sono arrivate in queste settimane. Sempre sparato ma a livello delettantistico. Una decina di anni fa ho cominciato in maniera un po' più importante. Diciamo da un paio d'anni sono riuscito a ottenere delle belle soddisfazioni. L'anno scorso ho vinto un campionato mondiale di Compact Sporting e un campionato europeo. Quest'anno ho rivinto l'europeo quindi diciamo che è andata molto bene. Da dieci anni Alessandro Gaetani 55enne originario di Ponta Ego alla frazione di San Minato pratica con successo il Compact Sporting una delle discipline non olimpiche di tiro a piattello. Così in una giornata dedicata tutta allo sport il consiglio regionale lo premia con una targa per i numerosi prestigiosi meriti sportivi ottenuti. In carriera Gaetani ha conquistato otto campionati italiani nelle varie discipline un oro mondiale due euro europei a squadre e un bronzo individuale. Un personaggio sportivo afferma il sindaco Giglioli che dall'ustra tutto il territorio. Lo scorso anno gli demmo un riconoscimento in sala consigliare però ecco ora abbiamo detto non basta più ecco l'ambito comunale bisogna andare minimo nell'ambito regionale e sono molto felice l'ho accompagnato molto volentieri in questo palazzo la casa di tutti i toscani perché è un toscano e un sanminiatese un pontaegolese che ha portato in alto i colori anche della Toscana e naturalmente una carriera in itinere presto andrà anche ai mondiali che si svolgeranno a Orvieto quindi chissà che non arrivino altri a loro riconoscimento aggiunge Mazzeo che premia un atleta che nel particolare esalta l'impegno individuale e il valore negli sport minori come il tiro al volo premia una persona che è cresciuta ha vissuto nella nostra regione la Toscana e che ha portato il nome della Toscana in alto nel mondo con le tante vittorie in questi anni oggi questo premio è un riconoscimento al valore dell'atleta alla capacità di farci emozionare alla capacità di dare valore anche a sport che sono meno noti e che hanno bisogno del sostegno da parte di tutti noi new iscritto a me 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 Grazie per la visione!